Sindacati sul piede di guerra, è appena iniziato l'anno scolastico e già per il segretario generale della FLC CGL Alberto Musca cominciano ad emergere le prime criticità della legge alla buona scuola approvata lo scorso mese di luglio dal governo Renzi. Sono state numerose negli ultimi mesi le proteste degli insegnanti ma anche di studenti e sindacalisti che sono scesi in piazza per dissentire contro il governo nazionale ma nonostante la buona scuola e a tutti gli effetti una realtà continuano senza sosta le azioni di protesta dei sindacati che hanno già annunciato una mobilitazione per metà di ottobre. Le criticità cominciano a venire fuori, criticità da un punto di vista sia organizzativo che poi soprattutto da un punto di vista anche tecnico e didattico se mi permettete. Ho ricevuto diverse telefonate di colleghi che hanno avuto la fortuna tra virgolette di essere assunti in questa fase B e anche diciamo in qualche altra ma soprattutto quella della fase B che si trovano in province del nord ancora tutt'oggi non sanno dove saranno assegnate perché sappiamo per un precario che ancora deve percepire lo stipendio andare ad assumere diciamo andare ad alloggiare in un albergo e soprattutto quelle del nord i costi sono non indifferenti. Da un punto di vista didattico perché che ne dica il ministro che viene assicurata la continuità didattica non penso veramente che questo sia possibile soprattutto perché la sede che avranno questi colleghi sarà una sede molto provvisoria perché in quanto andranno a finire poi negli ambiti territoriali e non riesco a capire proprio come un docente o tutti i docenti che finiranno negli ambiti territoriali potranno come dire garantire questa continuità didattica sarà molto molto complicato e soprattutto molto complicato nel poterle gestire perché ancora neanche il ministero ha le idee chiare su cosa intende fare e su come procederà. Basta pensare ai collegi dei docenti che in questi giorni si stanno riunendo o si sono già riunite nelle scuole e non hanno avuto nessuna indicazione su come poter progettare questo famoso piano triennale. Il ministero si era impegnato a dare delle indicazioni ma ad oggi nessuno ha proferito verbo per cui si sta andando avanti molto sull'improvvisazione e soprattutto si conta molto come sempre sulla buona volontà dei docenti ma questo non penso che significa poter garantire la qualità nella scuola tanta guagnata qualità di cui il ministro e il nostro amatissimo capo del governo va spacciando e va dicendo diciamo sotto tutte le forme tant'è che già è stata programmata anche se la data ufficiale non si sa si parla di metà ottobre una mobilitazione unitaria nazionale però su base regionale proprio per fare sentire ancora la voce del mondo della scuola che contesta apertamente questa questa riforma.